ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo di live non è la d'urso cristiano malgioglio cade in diretta vediamo che cosa è successo una parentesi tutta da ridere quella che è successo nel programma di barbara d'urso andati non dal 31 maggio ovvero al live non è la d'urso cristiano malgioglio al suo malgrado si è reso protagonista di un siparietto irresistibile che ha molto divertito il pubblico a casa ma anche la conduttrice infatti mentre in studio si discute con la redana lecciso e della frase di albano sui dinosauri che ha tanto divertito in i giorni scorsi il popolo del web cristiano malgioglio all'improvviso cibola dalla poltrona e finisce a terra ma roba da barbara d'urso non riesce nemmeno a parlare dal ridere chiedendogli che cosa aveva combinato il cantante risponde tutta colpa dei pantaloni e del tessuto della poltrona che hanno creato una certa scivolosità che hanno fatto capitolare a terra l'ospite in me che non si dica in fondo non è la prima volta che al live qualcuno cade per chi segue il programma sicuramente si ricorderà una delle primissime puntate andati in onda nel 2019 quando carla fracci inciampò come una grazia esilarante e voi avete visto la caduta in diretta se si scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news un grosso abbraccio da Joe Red